Allora, squadra di calcetto contro Atletico Cocorito, la vittoria è la squadra di calcetto, 3-2, inquadrato il grande assente Ranucci, una dichiarazione fortunatamente assente, infatti, non giocherò più, dato che sono due partite, la scorsa volta mi sono fatto male, i ragazzi hanno vinto, oggi vi voglio ringraziare, da Fede ha annunciato che ci hanno dato della sua presenza, e parte della vittoria la dobbiamo anche annunciare. Devo fare i complimenti a tutti gli attenti ragazzi della squadra che si sono mostrati all'altezza dei compiti, e la squadra di calcetto continua con la sua serie di vittorie contro Atletico Cocorito, ok, grazie, buonattina una dichiarazione, volevo aggiungere qualcosa? Non lo so, niente, che coliva si sta dimostrando, grande portiero, 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 è un portiere, è un portiere, perché era citofono e ora è diventato portiere, imparate le pratiche mondiali, speriamo di andare avanti. Grazie.